L'effetto è stato quello di un uragano, queste le parole di baristi e ristoratori di Appe e Fipe che si sono confrontati per il primo giorno con le direttive del nuovo DPCM. Telefoni bollenti, lamenta Arminio Alaimo, presidente provinciale dell'Appe, con esercenti spaesati a dover capire i confini di questa stretta sulla movida. Denunciano il caos normativo che rischia di paralizzare il comparto e chiedono l'intervento della regione per sollecitare indicazioni più precise. Tra ristoranti che hanno rifiutato prenotazioni oltre i sei posti, gruppi di amici che hanno annullato pranzi e ristoratori e clienti che non sapevano come gestire eventi come i compleanni. E il banco di prove è stato proprio il mercoledì, giorno tipico della movida universitaria padovana che si riversa sulle piazze per lo spritz serale dove non sono mancati i controlli. La polizia locale non abbiamo elevato contravenzioni, questo non vuol dire che non le faremo. Se ci saranno delle violazioni reiterate da parte degli esercenti, ovviamente prenderemo dei provvedimenti nei confronti degli esercenti, viceversa nei cittadini, nei ragazzi, nelle ragazze che non rispettano le regole, le sanzioni verranno elevate. Ieri è stata praticamente la prima giornata di un po' di movimento, essendo un mercoledì che è notoriamente uno dei giorni più frequentati dai ragazzi nel nostro centro storico in particolare. E quindi noi abbiamo fatto i nostri controlli, abbiamo ricevuto le nostre segnalazioni, siamo usciti, abbiamo controllato, abbiamo avuto il nostro personale in borghese sia personale in divisa. Ovviamente l'invito resta quello a rispettare le regole, quello di mettersi la mascherina, consiglia l'assessore, deve essere ormai un automatismo consolidato.